Musica Quindi Annettina, hai voglia di uscire? Oh Phoenix, anche tu qui per fare shopping? Vuoi andare da qualche parte? Se hai tempo intendo Sento di potermi avvicinare, non penso che il mio legame E allora che cacchio sono venuto a fare? Cosa mi hai scritto a fare, stronza? Beh, se Ann non mi dona niente a questo punto Penso che Takemi sia libera a questo punto Oggi non ho molti pazienti, sembra quasi un giorno di vacanza Però piove, presto potrei avere un certo afflusso di gente raffreddata Allora, cosa ti serve oggi? Il test clinico? È quasi completo ormai, ma c'è qualcosa che vorrei verificare Puoi venire da questa parte? Sento che presto il mio legame con Takemi si rafforzerà Ok, fammi andare a prendere la persona giusta Andiamo dall'altra parte Con lei Se ho fatto tutti questi progressi è stata solo grazie a te Ora riesci a bere questa roba senza nessun problema, giusto? Eh già Chissà, magari da grande potrò bere altro senza problema Va bene, per oggi è tutto Oh, vai già a casa Se hai tempo ti andrebbe di restare per mangiare una mela? What? È un regalo di una mia anziana paziente Me ne ha portate fin troppe Salve, dottoressa Takemi Direttore Yamada C'è stato un congresso medico nei dintorni, così ho pensato di venirla a trovare Lui chi è? Non sembra un paziente È un assistente part time Quello che sta facendo qui è assurdo Ha ragione Se fosse rimasta a marcire in questo quartiere avrei chiuso un occhio Ma le do un ultimo avvertimento Chiuda questo posto e rinuncia alla licenza medica È un ottimo medico lei, invece Come hai detto? Non preoccuparti Sembri molto legato a lei Forse dovrei svelarti la vera identità di questa donna Avanti, dica pure È un mostro che ha torturato una paziente con il suo farmaco non regolamentato Terribile, vero? Era una ragazza coraggiosa, sempre sorridente Era? È morta Tan 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 I brividi per la musica Cosa? Forse ti toccherà la stessa sorte, chissà D'altra parte, sei il flagello Non menta Dovrebbe restarle ancora del tempo Si stava riprendendo Le sue condizioni non sarebbero dovute a gravare così in fretta Eppure è successo Deve aver giudicato male Ma tornando al motivo della mia visita Non mi rubi altri pazienti Non le consiglio di farmi arrabbiare No Miwa-chan È morta No, no, no È per lei che ho continuato a lavorare tutto questo tempo Curarla era la mia unica... È impossibile Chiediamo dei dettagli invece Cosa ho fatto per tutto questo tempo? A quale scopo? Non posso C'è niente che possa fare No Passerà Mi sento meglio Grazie per l'aiuto Mia dolce cavia Sento che il mio legame si sta rafforzando Però ora con questa notizia Penso che noi non le serviremmo più No? Penso proprio di sì Non volevo mostrarti quel lato di me Capita a tutti Siamo tutti umani Sì, hai ragione Va bene farlo di tanto in tanto Per oggi puoi andare a casa Continueremo un'altra volta Collaborare mi ha aumentato il coraggio Stammi bene Non mi richiamerà stasera Invece? Qualcuno ha bisogno di me stasera? Oh, caicca Nessuno? Oh, incredibile Mishima, sei libero? I ladri fantasma hanno finalmente fatto il loro grande esordio E il fansite ha iniziato a movimentarsi un non poco Avrò proprio un bel po' da fare Oh, ti sei occupato di quella richiesta? Grazie Ehi, ho un'altra idea su come aiutarvi in qualità di rappresentante d'immagine È un'ottima proposta, fidati Sei libero oggi? Sento che presto il mio legame con Mishima si rafforzerà Allora, che intenzioni hai? Vuoi incontrare Mishima? Sì, però scusami un attimo Mishima è l'una, giusto? E Kaguya è l'una E allora perché non mi aumenta il bonus? Mmm Ok Mishima, passiamo del tempo assieme Andremo a mangiare in un costoso ristorante buffet a Shibuya Eh 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 eh, non preoccuparti del prezzo Avanti, vieni con me Bene, stasera cena gratis Wow, non ci sono mai stato qui Eh eh, oggi offro io I ladri fantasma vanno matti per questa roba chic, vero? Ecco perché siamo qui Oh, e ci siamo solo nei due Perciò, abbuffati pure Cosa vuoi mangiare? Penso che la carne andrà benissimo Davvero? La carne è perfetta per dei tipi tosti come noi Comunque, questo posto è un all you can eat Perciò facciamo sì che siano soldi ben spesi Esatto Comunque, ho scritto sul fansite che ho dei legami con voi Il fandom è andato in delirio Davvero? Non preoccuparti però Non ho detto nullo che possa ricondurre alla vostra vera identità Mi sono limitato a dire che Mandare avanti la nostra organizzazione è piuttosto costosa Subito dopo ho ricevuto dalle donazioni a dir poco Generose Cosa? Ma immagino che i nostri fan volessero semplicemente mostrarci il loro supporto Non male eh? Certo, sei un po' incredibile Però, non sarebbe giusto Però, cerchiamo di dargli un po' di corda alla volta Anche se sta tirando più del dovuto Eh eh È stato facile per uno con le mie abilità Vediamo di approfittare di questa manna più che possiamo Oh, è ok mettere questo pranzo in nota spese, giusto? Pranzo? È una cena questa Aspetta un attimo Ho sentito che usare le donazioni per qualcosa di diverso da ciò che si è pubblicizzato è un reato Il cibo è una spesa di gestione certamente accettabile Ma vale lo stesso per i buffe costosi Eh Più ci penso, più ritengo sia sbagliato usare le donazioni qui Cioè, la gente si influenzerebbe se un politico sfruttasse le tasse per i suoi interessi personali Vallo a dire Yoshida Lo stesso vale probabilmente per i ladri fantasma Credo che restituire i soldi sia la scelta migliore Bravo Mishima Hai ragione Già, dobbiamo assicurarci che l'immagine del ladri fantasma resti immacolata agli occhi dei fan Credo sia meglio restituirli e ringraziare il fandom per la sua generosità Ne andranno pazzi Sarà una perdita di risorse preziose ma è tutto ok fin tanto che la nostra popolarità aumenta, no? Esatto Tanti soldi Non ci mancano Cavolo Credo di essere nato per queste robe strategiche Ci sono davvero portato Ma non preoccuparti Sto ancora raccogliendo info sul forum In effetti ho già delle piste valide Finora sono sempre stato vicino a casa Ma queste ultime vi manderanno fuori di testa Oggi Mishima sembra particolarmente entusiasta E c'è un motivo per cui ho deciso di uscire con lui Proprio perché a rango 4 dovrebbe sbloccarci un'altra richiesta E con quella richiesta possiamo fare un altro giro nel memento Lo so, si stanno accumulando le richieste Però a sto punto andiamo tutto in una botta Quando avremo tutte le richieste Compreso questa qua dei finti ladri fantasma Aspettiamo un attimo Eh, come facciamo per metterci il pranzo Visto che vogliamo restituire i soldi Io sono al verde È una cena comunque, è sera Temo che ci tocchi tornare a casa Ma la gente non ci ha visto entrare Da sera proprio Ah, che bello E poi c'è, andiamo Oh, star Scusa se ti ho fatto di nuovo uscire per nulla Sai che novità Comunque, rappresentante dell'immagine dei ladri fantasma Ah, scusa Come? Ho cercato di sollevare un po' il morale Ma penso che alla fine sia stato perfetto per la nostra immagine Giusto? Già, è stata la scelta migliore Sì, giusto È stato difficile evitare gli sguardi dei dipendenti all'uscita Ma dobbiamo essere ottimisti Esatto C'è ancora molto che devo fare per voi ragazzi Lavorerò ancora più duramente Voglio essere una risorsa per i ladri fantasma Ok, ciao Questo vuole essere un ladro fantasma Ma non potrà mai esserlo Mi dispiace, mi scima Con tutto l'affetto che non ho per te Perché Sei pesante Però non puoi essere un ladro fantasma Oh, non siamo sul treno Incredibile Ho sentito che c'è un forum sui ladri fantasma Oh, l'ho visto in tv È famoso Ma prende il treno come tutti quanti Ehi, non è quel famoso detective I ladri fantasma spaccano, vero? Chissà di chi parlano Hmm, chi sarà questo famoso detective? Pam, param Pam, pam, pam Ehi, a proposito della lettera di sfida Spedita alla mostra dei Madarame Pensi che... Sì, penso che sia come quella Despedita Kamushida In rete Si dice che dietro c'è Le lettere ci siano i ladri fantasma Esiste qui... Esiste già un fansite Con tutta una serie di richieste Di persone da colpire Non riesco a crederci I supereroi esistono davvero Più che supereroi siamo dei ladri È successo due volte È probabile che succederà ancora Non vedo l'ora di scoprire chi sarà il prossimo Eh, già Chi lo sa chi sarà il prossimo, eh, signorine? Interrogazione Oh, un'altra Oh, è Maruki però Pare che molti prenderanno parte Alla gita allo studio di domani Vedrete anche voi lo show Mi piacerebbe vederlo Mi piacciono i talk show Oh, e varietà Mi chiedo se parleranno dei ladri fantasma Ultimamente ne parlano molti in tv e sull'internet Anche se... Sono un po' preoccupato di cosa potrebbe succedere se i media Aizzassero troppo la gente Oh, ora che mi viene in mente Avete mai trattato il totalitarismo? È un'forma di governo che unisce i cittadini sotto un'unica ideologia Attuando un controllo autoritario In teoria unisce le persone sotto un solo ideale Questo garantisce dei vantaggi logistici Ma ciò comporta imporre degli ideali alle persone Assimilando chi è contrario Ed è così che iniziano le guerre Bene Star-kun Eccoti una domanda Mi dica Tanto parlate solo con me In quali ambiti il totalitarismo si spinge oltre l'autoritarismo? Ehm... Credo contro l'opinione pubblica Wow, mi sorprende che tu lo sappia È facile Sì, un governo totalitario cerca di controllare la cultura, la moralità e persino i pensieri delle persone Per ridurre al minimo il dissenso Cerca di assimilare tutti in un'unica ideologia Anche la lettura dei segnali non verbali può essere una forma di assimilazione personale Lo fate tutti, giusto? Io ci provo, ma non sono molto bravo È un'abilità utile Può aiutare a sopravvivere nel mondo moderno Ma non se ne può abusare In una camera dell'eco le persone con opinioni diverse possono soffrire Oh, wow, ho saputo rispondere Forse potrei chiedergli appunti Yaru Janenga Oh, Dio mio Anche io mi scrocchio Allora Conservate una forte identità e una mente aperta Per vivere in armonia anche quando si è in disaccordo Credo che l'ora sia quasi finita Per oggi è fatta Una forte percezione di sé, eh? Anche noi dobbiamo fare in modo di non perdere di vista ciò in cui crediamo Eh già È un buon punto, Morgana Oh, qualcuno va alle macchinette Pare che il preside stia cercando di raccogliere informazioni sugli studenti Secondo te perché lo fa? Probabilmente a causa del prof Kamoshida Visto quel che è successo a Suzui-san Cosa dite? Ho sentito dire che il preside, pur sapendo delle moleste sessuali, è semplicemente chiuso un occhio Vorrà mettere a tacere le dicerie Persino alla squadra di pallavolo hanno chiesto di non parlare Che schifo Allora è anche questo che gli serve Nijima-senpai Cosa? Eh sì, si dice in giro che anche lei sapesse tutto Non è terribile Proprio lei che fa la santarellina Nijima-senpai lo sapeva Mmm Mi sembra una voce questa però Pappa Da 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 E questo che significa, preside? Non dirò mai quel nome Perché ha fatto pubblicare quell'avviso L'ho fatto per il tuo interesse Ho pensato che maggiori informazioni avrebbero potuto agevolare la tua indagine A proposito, è emerso qualcosa a proposito del caso che ti ho chiesto di esaminare? Ancora niente Provvederò a informarla se dovessi scoprire qualcosa Per il momento abbiamo un problema più urgente Pare che alcuni studenti della Shujin siano stati minacciati da un'organizzazione criminale Cosa? Uno studente che ha letto il suo avviso ha chiesto il nostro aiuto Vorrei richiedere una contromisura Deve esserci un errore Come può accadere una cosa simile agli studenti della nostra accademia? Ora non c'è tempo per queste cose I ladri fantasma sono ancora motivo di grande preoccupazione Ma abbiamo ricevuto una richiesta d'aiuto Sono piuttosto occupato al momento Se vorrai fare qualcosa dovrai agire per conto tuo Signore? Ne è proprio sicuro? Sto ancora indagando su quel caso? Sì esatto Direi che è perfetto I miei propositi stanno dando i loro frutti Questa organizzazione criminale sembra il nesso mancante Se ti occuperai di questo problema Di certo scoprirei indizi riguardanti i ladri fantasma Ma è assurdo E se questa diceria di corrispondesse al vero Vorresti ignorare degli studenti in difficoltà? Io... Al tuo posto tua sorella avrebbe risolto tutto in un batter d'occhio Mi aspetto grandi cose da te Spero che non mi deluderai Sì tutti bravi a parlare di mia sorella Chi è? Allora chi potrebbe mai essere un obiettivo ancora più importante di Madarame? Me lo chiedo Sarà per forza qualcuno di cui in città parlano tutti? È un requisito piuttosto generico Non hai un'idea più precisa? Un politico corrotto? Un VIP? Un signore del male? Guarda che non siamo mica in un videogioco In ogni caso Prima di muoverci Avremo bisogno di una pista Il signore del male In realtà non è tanto sbagliato quello che ho detto Dovremmo solo tenere gli occhi aperti Mentre procediamo Se solo avessimo una grande Un grande obiettivo a cui dare la caccia Ryoji io te l'ho detto Un signore del male Potrebbe essere la soluzione Ehi domani c'è la visita alla stazione televisiva vero? Magari il nostro prossimo obiettivo sarà una celebrità Direi proprio di no a Morgana Questa in effetti non è una richiesta del fansite Ma una cosa personale Per dirla tutta L'altro giorno uno studente più giovane è venuto a chiedermi un consiglio Sembra che qualcuno lo stia ricattando al lavoro Ed è il direttore del negozio Il direttore? Già Da quello che mi ha detto Sono scomparsi dei soldi dalla cassa Di cui avrebbe dovuto occuparsi E così è stato falsamente accusato Di aver rubato dei soldi al negozio Ora il direttore vuole Vuole che restituisca l'intera cifra Sono 50.000 yen 50.000 yen Questo ragazzo è la persona più onesta che conosca È impossibile che abbia rubato tutti quei soldi Inoltre ho fatto un po' di ricerche in rete su quel negozio Secondo molte voci potrebbero essere stato il direttore stesso a rubare quei soldi È la sola persona che controlla il registratore di cassa dopo tutto Oltre a questo alcuni membri dello staff l'hanno visto prendere contanti mentre calcolava i totali Comunque a quanto pare si chiama Nozomi Odo L'ho scoperto durante le ricerche sul negozio Per favore dovete aiutare quello studente Va bene Tranquillo Ci penso io Però tra un paio di giorni Quando mi dirai anche quello dei finti ladri fantasma Hai un po' di tempo oggi Uh ma buongiorno Senpai oggi sei libero Devo ancora rispettare la nostra parte dell'accordo Perché non oggi quindi Voglio cominciare a inculcarti le basi Va bene ma devo andare a prendere la persona giusta Kasumi cara Dicevamo Kasumi Ora con la persona giusta posso venire da te Grazie Allora che ne dici di incontrarci al parco Inokashira Eccoci di nuovo qua Scusa non capisco mai se il mio telefono funzioni o meno Cambialo Comunque vado al parco Inokashira Ci vediamo là Quanto odio il telefono di Yoshizawa Ogni tanto Pensi che sia il gioco addirittura a bloccarsi Niente male star senpai Sei piuttosto flessibile e imparerai presto Beh mi alleno con Ryuji quindi Con questo ritmo imparerai le basi in un attimo Il mio corpo si è tutto indolenzito imitando le pose di Kasumi È una questione di armonia tra il muscolo obliquo interno e quello esterno Non mi stanco mai di farlo Abbiamo appena cominciato ad allenarci Con Ryuji faccio ben di peggio Bene grintoso mi fa piacere sentirlo La ginnastica ad alti livelli è stupenda Ma richiede tantissimo stretching Ok si comincia si continua Ok proviamoci Ho fatto stretching con Kasumi Abbiamo fatto abbastanza stretching per oggi Ottimo lavoro senpai E mi piacerebbe continuare con i nostri allenamenti ma Non mi sento benissimo Non credo di poter gestire l'attività troppo intense La prossima volta allora Grazie per la comprensione Grazie a te Ti ricordi che ti ho detto che volevo parlarti di una cosa? Mi sento come se fossi in un brutto periodo Capita a tutti Per quanto mi alleni non riesco a migliorare Ne ho parlato con la coach ma Mi ha detto di prendere una pausa dalla ginnastica Secondo lei devo capire chi sono davvero Non dice di smettere con la ginnastica Vuole che mi prenda una pausa Eh capisco E' una cosa brutta no? Non ho mai avuto un problema che non potessi risolvere allenandomi Ma ora non so che fare Forse l'allenamento non è la risposta a tutto Quindi vorrei che tu mi aiutassi star senpai Continueremo a vederci anche senza fare ginnastica Non sembra essere un problema Ti intendi romanticamente Nessun problema Davvero grazie mille La coach mi ha alleggiato Ha detto l'arma migliore di Kazumi è da sempre l'intraprendenza Sinceramente è da tempo Un tempo era così Ero coraggiosa sicura di me La ginnastica era una sfida divertente Ma da quando sono al liceo faccio fatica Prima di tutto sono più alta E ci sono anche altri problemi Non riesco più a muovermi come vorrei Come se questo non fosse più il mio corpo Sono quasi caduta in depressione Sono messa male Da quando mi hai aiutato a Shibuya Mi sono resa conto di qualcosa Quando ho visto il tuo coraggio La tua sicurezza Ho capito che eri la persona giusta Se rimango al tuo fianco senpai Penso di poter riguadagnare la fiducia in me stessa Lascia fare a me Ci penso io Fantastico grazie Sei un tipo bizzarro senpai Non pensavo avresti accettato Beh tenterò di restituirti il favore con il nostro accordo A me va benissimo Percepisco l'apprezzamento di Kazumi Acrobazia ti permette di evitare Di essere circondato dai nemici nei palazzi Per quelle poche volte che è successo E l'ultima volta che l'ho detto Siamo stati circondati Questa roba Sarà molto utile Oh chiedo scusa Ma quello era il tuo telefono La campana Dovrei andare Devo vedermi con la mia coach Per ora devo andare Ma farò in modo che tu non te ne penta Grazie Kazumi Buona giornata Grazie all'allenamento mi sento molto più resistente 5 HP E vai Kazumi si è allontanata di corsa Marugi mi dà SP Kazumi mi dà HP Meglio di così Dovrei raccogliere le mie cose Tornare a casa Eh già Ora è una chiamata da Kazumi Eccola qui Grazie mille per esserti unito a me oggi Star Senpai Non sei indolenzito dopo tutto quello stretching Hai fatto lavorare i muscoli che non usi spesso Ricorda di massaggiarli prima di andare a dormire Anche Ryuji me l'ha detto la prima volta che mi sono allenato con lui Ma sono felice che tu mi abbia accettato Abbia accettato la mia richiesta Ero così sollevata che mi è venuta una fame tremenda E al meeting la pancia non la smetteva di brontolare Notevole Eh grazie Anche se non so se merito tutti questi complimenti Di solito le dietere esagerate fanno star male le persone Ma su di me hanno l'effetto opposto Ma visto che mi sta aiutando farò di tutto per mantenermi in forma Complimenti Spero che tu possa aiutarmi la prossima volta Senpai Presto ti contatterò di nuovo Bene ci sentiamo presto Buona giornata anche a te Kasumi Beh vediamo invece chi è che mi chiamerà oggi Oh cacca Sentiamo Vi ricordate che domani andiamo a quell'emittente televisiva si? Credo torne e troveremo lì il nostro prossimo bersaglio Oh giusto Si sentono di continuo pettegolezzi sul lato oscuro delle celebrità Hai ragione Con tutti quei soldi avranno degli affari sporchi per le mani L'hai detto in un modo così fraintendibile Coso te la prendi sempre per i motivi più strani Faremo da pubblico in un programma in diretta no? Oh magari finiamo in tv Saremmo solo facce nella folla Qualsiasi apparizione in tv sarà solo per un paio di secondi Cercate di non far sciocchezze per attirare l'attenzione ok? E arrivò Ryuji con un cartello Sono un ladro fantasma Nessuno stasera mi scrive Sogirno non ha bisogno di una mano E neanche a Shibuya nessuno mi vuole Allora stasera sarà facile Andiamo in palestra E visto che abbiamo gli steroidi No non è vero non abbiamo gli steroidi Pensi di andare in palestra? Assolutamente Useremo Quello di importazione Morgana stasera allenamento intensivo Cominciamo l'allenamento Vuoi prendere qualcosa? Il frullato di importazione Proteine di importazione Ne hai una che ne dici? Prendiamole Gluget gluget glug Bene sei pronto? Minchia Guarda come corro Te la stai cavando bene Fai attenzione e controlla il tuo battito cardiaco Ti stai abituando anche a questo La prossima volta proviamo qualcosa di diverso Sembra che ti sia allenato fisicamente e mentalmente Ormai sono pronto 3 HP Più 2 SP Il frullato ha fratto il suo dovere 5 HP E 3 SP Praticamente ho guadagnato più così D'accordo siamo qui da parecchio Torniamo a casa E lavati che puzzi Davvero LOL Dio mio quanto odio le persone che scrivono LOL E lo fa un mio amico Ma io glielo Lui lo sa Lui lo sa che io odio LOL Nella vita reale Perché lui lo dice proprio santo cielo Non è che lo scrive e basta Ed ecco perché coinvolgiamo gli sponsor Nella realizzazione dei programmi televisivi Avrete sentito parlare dei break pubblicitari giusto? E' proprio lì che entrano in gioco gli sponsor In sostanza Gli indici di ascolto sono di vitale importanza Per il finanziamento di un canale tv e E' interessante Anche se tutti lo sanno Eh oh Allora ti conviene continuare ad ascoltare Poi fammi un richiassunto Ad esempio Di giorno vanno in onda le soppopera Di sera i programmi con le presentatrici più attraenti Pertanto gli orari in cui mantenere in onda i vari programmi Vengono decisi nell'ufficio di programmazione Insomma Si tratta del luogo in cui viene pianificata la programmazione della nostra rete Più ovvio di così E' facile da capire Beh sì Diciamo di sì Poi dal girato vengono estratte le parti migliori Per realizzare una puntata della lunghezza desiderata Il luogo in cui vengono montati i vari segmenti è la sala di montaggio Tipo la mia Ehi ma quando finisce Sto per crollare giuro Che succede? Questo baccano è insopportabile Ehi brutto stron... Chiedo scusa Li faccio allontanare immediatamente Dunque è venuto il momento di fare un po' di esperienza sul campo Ovvero andatevi a sedere Accidenti Ma chi si crede di essere quello stronzo? Ehi la Ti va di lavorare in tv? Eh? Sai E' proprio un corpo da favola Sono in gita scolastica Beh se sei interessata contattami Puoi mandarmi un messaggio quando vuoi Mi farebbe molto piacere Ok Molto piacere un cazzo Il suo obiettivo è evidente E questi squalli di adulti interessa solo l'aspetto fisico Bastardi Vi strapperò il cuore dal petto E il ca... Dal... Vuoi darti una calmata? Oggi dovreste comportarvi da bravi studenti Capisco che siete annoiati Ma cercate di non causare problemi Ok? Dunque Ehm Ora vi mostreremo come funziona il lavoro dell'assistente operatore Quando spostiamo le telecamere Qualcuno deve occuparsi dei cavi Per evitare che si ingarbuglino Il biondimono andrà bene Sembra avere energia da vendere E tu Quello accanto a lui Puoi venire anche tu Se ti senti solo Dai Prendete quei cavi Muoversi Merda Che rottura Sfruttamento Ah che palle Questa roba mi sta spegnendo tutto l'entusiasmo Dopo una strenua lotta con i lunghi cavi ingarbugliati Finalmente ci siamo seduti Immagino Pam pam Ah no E invece no Che nervi Non dovremmo essere ospiti Perché diavolo dobbiamo metterci a fare il lavoro manuale Che stronzata Neanche andare al bagno è servito a farmi stare un po' meglio Cosa hai fatto in bagno Ryuji? Vuoi darti una calmata? Anche se capisco come ti senti Alla fine è andata male entrambi Domani dobbiamo fare ancora questa roba Non dobbiamo demordere Ryuji Lo so lo so Devo fare il bravo ragazzo giusto E se il ladro di fantasma non è affatto semplice A proposito Oggi possiamo tornare a casa direttamente da qui Non possiamo mai Non passiamo mai da queste parti Quindi perché non ci facciamo una bella passeggiata tra i negozi? Oh so io dove andare Parlo di quel posto a forma di pancakes Che gigante che abbiamo visto prima Sembrava delizioso Cos'era? Oh parli del downtown La parte circolare è uno stadio di baseball Mentre all'esterno c'è un parco divertimenti È nel bel mezzo di un'area piena di uffici Ma credetemi Ha delle attrazioni veramente toste D'accordo andiamo Vi farò vedere quanto so essere coraggioso Salire su una giostra non dimostra di avere alcun coraggio E comunque i gatti non possono salirci Davvero? Già potresti farlo stando nascosto nella borsa Ma vomiteresti di sicuro A ogni modo dai Andiamo al downtown Adesso mi sento veramente in vena Anch'io non vedo l'ora di farmi un giro sulle montagne russe E credo che salterò la parte delle giostre vomitose Oh cacchio qualcuno Scusate non ho potuto fare a meno di notare le vostre uniformi Siete studenti della Shujin Academy Sì che vuoi Passavo di qui Mi sembrava garbato farvi un saluto Dopotutto dovremmo fare delle riprese insieme Oh ma che maleducato Mi presento mi chiamo Goro Akechi Akechi? Delle riprese Sei un personaggio famoso Diciamo che sono apparso in televisione un paio di volte Oh Vi chiedo scusa Come dicevo sono solo di passaggio Devo andare C'è un briefing per le riprese di domani A cui non posso mancare Dunque adesso andate a rifocillarvi Oggi non ho pranzato Anche io ho una certa fame Come? Ma di che stai parlando? Oh forse mi sbaglio Credo di aver sentito parlare di deliziosi pancake Meme su Akechi Pancake Non importa Beh a domani La prima volta che Ho visto questa cosa Subito ho pensato Subito ci ho pensato Non lo dirò a cosa Ma subito ci ho pensato Quel tizio deve essere una specie di showman emergente o roba simile Però non diventerà mai famoso Con quei capelli che si ritrova Non ne capisci niente Vabbè a ogni modo lo rivedremo domani Forza tutti al Dom Town Dov'è Dom Town? Eccola qui Un parco divertimenti Ehi possiamo saltare le diavolerie da vomito e passare ai dolciumi? No Noi ce ne andiamo sulle giostre Tu vai a vomitare su un parchetto così Sto per vomitare Sul serio Ho lo stomaco sotto sopra E' per questo che ero contrario Ehi non è giusto Quanto ti fa comodo essere un gatto E' una bella scusa Comunque voi non avete fame Credite di qualche pancake Andiamo a casa Domani ci aspetta una giornata intensa E quindi pancake? Niente Siamo andati solo sulle giostre? Vabbè Complimenti a noi Domani alla stazione tv ci riprenderanno vero? Cerca di non dare nell'occhio E a quello ci pensa Ryuji Vestito tutto di rosso Oh guarda un po' cosa ha il mercatino dell'usato Il set da retro gaming Benvenuto a noi Grazie Grazie a te invece Finalmente Stavo solo aspettando quello Che vendesse il negoziante E lo mettiamo subito sulla tv Adesso che ci penso Hai comprato una console no? Sì Una PS12 Benissimo Adesso possiamo giocare Giocare ai videogiochi E' utile sì e no Però Allora Cosa intendi fare? Niente in realtà Volevo solo metterla giù Morgana Vediamo Nessuno ha bisogno del mio aiuto Quindi anche oggi Palestra Vuoi andare in palestra? Sì Paghiamo sti 2000 Ed entriamo A quanto pare ti sei dato da fare Vuoi provare ad allenarti con questi oggi? Questi cosa? Questa è una panca per il sollevamento pesi Aumenterà la tua forza Dover mantenere ritmo e forma costanti Allenerà anche la tua concentrazione Ottimo no? Vuoi prendere qualcosa? Sì L'iperproteico Frullati per proteico? Nei tre Che ne dici? Andiamo Avrò Dei calcoli grossi così Per colpa di sti frullati Probabilmente un giorno Bene Sei pronto? Assolutamente Oh sembra pesante Sei fuori forma però Yanko pose Sollevare tutto quel peso È stato difficile Vero? Sembra che ti sia allenato Fisicamente e mentalmente Ma nessuno mi vede lì morto Per terra Poveraggio me Però sembra che anche il frullato Abbia dato i suoi frutti Già Tre più due D'accordo Siamo qui da parecchio Torniamo a casa Strisciando E un'altra giornata passò E oggi è venerdì E niente Maruki Oh peccato Arriva il signor Akechi Non è il tizio che abbiamo visto ieri Riprendiamo la linea Sette Sei Cinque Quattro Tre Due È il momento della nostra rubrica Incontra la star Dopo il successo dell'ultima volta Abbiamo deciso di ospitare nuovamente Un vero gentleman Stiamo parlando Dello studente detective Goro Akechi Salve a tutti Grazie di essere qui con noi Akechi Kun La tua popolarità è alle stelle Lo trovo una cosa piuttosto sorprendente E anche un po' imbarazzante Andiamo dritti al sodo Abbiamo saputo che ti stai occupando di un caso Che ce ne vuoi parlare? Oh sì Si tratta dello scandalo che ha coinvolto il grande artista Madarame Oh ecco Il clamore intorno ai ladri fantasma Ha catturato anche la tua attenzione Akechi Kun Permettimi di farti una domanda Cosa ne pensi di questi ladri fantasma Invotati alla giustizia? Se davvero si tratta di eroi Al servizio della giustizia Spero esistano veramente Dico davvero Oh dunque non neghi la possibilità Che siano reali Forse non sembra il tipo Ma a volte vorrei che Babbo Natale Esistesse veramente Anche se così fosse Dovrei arrestarlo per effrazione e violazione di domicilio Ha fatto la battuta Tuttavia ragionando a livello ipotetico Se questi ladri fantasma esistessero per davvero Credo che potrebbero essere processati Che dovrebbero essere processati Un'affermazione forte Dunque stanno commettendo dei crimini Alcuni sostengono addirittura Che i ladri stiano aiutando le loro vittime a radimersi Ciò che ha fatto l'artista Madarame È un crimine imperdonabile Tuttavia questi individui si sono arrogati il diritto di giudicarlo Questa non è giustizia Ma soprattutto Non si dovrebbe mai costringere nessuno a pentirsi Ad avere un risveglio del cuore Non è tutti torti D'altronde queste persone si fanno chiamare Ladri fantasma Fantastico come sempre Kechi-kun Potrei stare ad ascoltarti per ore Hai un carisma straordinario Comunque ammetto che sarebbe imbarazzante Se si scoprisse che i ladri fantasma non esistessero In tal caso Riepilogherei il tutto In un rapporto da pubblicare come progetto scolastico Bene Ora chiediamo agli studenti coetane di Kechi La loro opinione sui ladri fantasma Premete il pulsante Se credete nell'esistenza dei ladri fantasma Cliccate Certo che esistono Meno della metà? Una percentuale del 30% Che ne pensi a Kechi-kun? Sono sorpreso Non mi aspettavo che una percentuale è così alta Addirittura Mi piacerebbe ascoltare qualche parere Più approfondito sulle azioni di ladri fantasma Chi potrei chiamare? Forse il protagonista? Bene Proviamo a chiedere a questo studente Cosa pensi dei ladri fantasma? Ammesso che esistano veramente? Rappresentano la giustizia Sono necessari? Fanno più della polizia? Penso che siano necessari Questo non me l'aspettavo Quest'opinione sembra essere in totale disaccordo con la tua Kechi-kun Senza dubbio Trovo curioso un'asserzione tanto decisa In questo caso C'è un'altra domanda che vorrei porre Se una persona a te è vicina Come il tuo amico seduto accanto a te Se lui avesse un risveglio del cuore Non pensi che sarebbe a causa dei ladri fantasma? Secondo te, invece? Mi rigiri la domanda? Beh, io la penso in questo modo Che le azioni dei ladri fantasma siano buone oppure no Credo che il vero problema sia un altro In che senso? Parlo del modo in cui operano il risveglio del cuore nelle persone Se davvero avessero questa capacità Potrebbero anche usarla per fare qualcosa di diverso Potrebbe darsi che dei crimini che sembrano normali In realtà vengano commessi in questo modo Hai perfettamente ragione, sai Oh, vi prego di non frainterndermi Parlo in via del tutto ipoterica Avrebbe senso se solo esistessero persone con simili poteri Tuttavia, dobbiamo restare vigili L'esistenza dei ladri fantasma Non sarebbe altro che una grave minaccia per tutti noi In realtà, sto già collaborando con la polizia Per aiutare a risolvere questo problema Wow, bravo Dal modo in cui parlava Sembrava quasi avere ragione Non mi piace per niente Ci ha fatto fare la figura dei cattivi E quella faccenda della polizia Secondo voi diceva la verità? Dica pure quello che gli pare Se tutto questo è giusto oppure no Saremmo noi a stabilirlo Oh, scusate Devo andare a pisciare Potete aspettarmi qui, torno subito Oddio Beh, io comincio ad andare, ok? Vabbè, allora rimango io Oh, eccoti Sono contento di averti trovato Volevo ringraziarti di persona Parafrasando Hegel Sembra senza tesi e antitesi Non può esserci anche un progresso Cosa? Le mie scuse Intendevo dire che la nostra è stata una discussione piuttosto interessante Mi capita di rado di incontrare qualcuno disposto a esprimersi così liberamente la propria opinione Agli adulti interessa soltanto avvantaggiarsi dei giovani che obbidiscono senza fiatare È un'epoca colma di irresponsabili Posso comprendere il tuo sostegno ai ladri fantasma È possibile che questo gruppo sia proprio come lo immagini E che agisca davvero in buona fede Visti i talenti di cui dispongono Presumo che i loro cuori trasudino giustizia e senso del dovere Ma quella giustizia è solo una facciata che occulta la loro mancanza di vera forza Ecco perché ritengo che contro un avversario davvero potente non esiterebbero a fuggire Non fuggirebbero Lotterebbero fino alla fine Sei davvero una persona intrigante Scommetto che saresti un degno compagno di discussione sul tema Se a te sta bene ti andrebbe di continuare a condividere le tue opinioni con me? Ma certo Per me va bene Mi piacerebbe molto Grazie, è un'ottima cosa Sento che in te c'è qualcosa di molto diverso dagli altri E abbiamo stretto questo patto con la sinistra La mano del diavolo Oh, come dire, il mio intuito da detective Scherzo naturalmente Pare che il detective Akechi mi abbia preso in simpatia Una nuova alleanza è stata formata Ah, la testa Non posso credere che tu sia riuscito a sfuggire alla polizia fino ad oggi L'unica spiegazione logica è che nella polizia vi sia qualcuno che ha dei legami con i ladri fantasma Esigo una spiegazione Ebbene, non l'avrà mia cara Io sono te, tu sei me Hai appena stretto una nuova alleanza Essa diventerà le ali della ribellione Capace di spezzare le catene della tua prigionia Con la nascita di questa persona, la giustizia Mi sono concessi i venti sacri Che condurranno la libertà e un nuovo potere Rango 1 Goro Akechi Pam, pam Ah sì, dovremmo scambiarci i contatti Ecco, tieni Ecco fatto, salvato Beh, spero di rivederti presto Ciao, buona giornata E adesso arriva Ryuji Intuiti da detective, eh? Ci conviene non sottovalutarlo D'altro canto, potremmo scoprire un sacco di cose da lui Se dovesse contattarti, usciamoci insieme Va bene Scusa se ci ho messo tanto Un momento Quello è Akechi Stai diventando geloso, Ryuji? Non sopporto il suo tono altezzoso Solo l'idea di respirare la sua stessa armi Mi dà il volto a stomaco Avanti, Phoenix, andiamo Ah, io me lo voglio fare come amico Voglio avere più amici Mi sento solo in questa città, Ryuji Non mi fa male avere degli amici Non puoi monopolizzare solo il mio cuore Parapapam Mmm, che uscita noiosa Non abbiamo neanche trovato bersagli degni di nota Chi è che mi scrive? Quel bastardo di Akechi Solo pensare che quel... A quel che ha detto mi ha fatto di nuovo incazzare Ha cercato di mettere in cattiva luce quello che facciamo E l'ha pure detto in diretta tv Non farti il fegato amaro Abbiamo salvato delle persone Ricordatene Persone che non sarebbero salvate senza l'aiuto dei ladri fantasma E io ne sono la prova Oh, che dolce che sei Però quel che ha detto Akechi è veramente sbagliato Non aveva tutti i torti Perché lo dice adesso? Intendo dire È giusto fare quello che facciamo alla gente Solo perché sono criminali Non è un po' da egoisti Siamo ladri fantasma, Ann Dubito che qualcuno perdonerebbe Quel che abbiamo fatto a Madarame Sono comunque convinto che fosse necessario E anche con Kamoshida Con i metodi tradizionali non l'avrebbero neppure toccato Questo è vero ma... Cosa ne pensi Phoenix? Siamo degli egoisti Non posso negarlo Stiamo aiutando la gente Akechi mi fa infuriare Stiamo aiutando la gente Non credo di poter avere un'idea diversa Credo che il nostro sentiero sia quello della giustizia Non della legge Dovrebbe bastare, no? E con la regola della decisione unanime Non ci smarriremo Sì, hai ragione Scusa per averne parlato E non ti preoccupare Non sto pensando di lasciare i ladri fantasma E meno male Sei il mio caster maggiore Tu... Aspetta e vedrai Akechi Un giorno ti renderei conto di chi aveva ragione Ok, non parliamone più ora Quell'investigatore Akechi Sembra avere una notevole influenza sui media È di certo pericoloso avvicinarsi troppo Ma magari potrebbe risultare utile Talmente utile che stasera in realtà Non mi dispiacerebbe andare a fare un giro, sai? Dio, sono furioso Hai sentito cosa ha detto Akechi, vero Star? Minchia, Roli Come osa definire i ladri fantasma dei criminali? Come amministratore del Phantom Sight Non posso non replicare Mostrerò Akechi come la pensa davvero il popolo della rete Domani cambierò la domanda del sondaggio La giustizia è dalla parte dei ladri fantasma Continuate a fare il vostro lavoro Perché di tutte le persone è lui che se la sta prendendo? Comunque parlava del sondaggio del fanside, giusto? Dovremmo solo aspettare e vedere Esatto, Morgana Tra l'altro, volevo vedere le mie statistiche Due secondi Siamo al doppio della vita di tutti gli altri E al doppio, per esempio, dei punti SP di Ryuji Però i nostri punti SP sono ancora un po' bassi Non vedo l'ora di rialzarli Allora, volendo potrei Uh, aspetta, ma oggi è venerdì Oggi è venerdì Potrei chiamare Kawakami Vediamo se è disponibile Vuoi chiamare Kawakami? Vediamo se è disponibile Grazie per aver chiamato Sono la tua... Ah, sei solo tu Sai, ho sentito dire che di recente Shibuya è diventata più pericolosa Ricordo che ci passi per andare a scuola Quindi vedi di non trattenerti troppo, ok? Ti fornirò i miei servizi per 5.000 yen Richiesta inclusa Perciò oggi chiederai di me, vero? Vero? Sento di potermi avvicinare a Kawakami Sì, Kawakami, però aspetta Ho bisogno di una persona giusta Perché non hanno fatto una stanza di velluto anche a Yongen? Sarebbe stato più comodo che ogni volta andare a Shibuya Sento di potermi avvicinare Sento che presto il mio legame si rafforzerà Vuoi fare una telefonata a Kawakami? Falla venire In tutti i sensi No, non è vero Evviva, ti adoro padrone Ok, sarò subito da te Oddio Padrone Voglio offrirti altri servizi Senti No Tu hai detto di no Io lo farei anche, ma tu hai detto di no Che stai tramando? Non sto tramando nulla, Miau Voglio solo essere chiamata più spesso Solo un portente con i massaggi Miau, ti massaggerò ovunque tu voglia Beh, che te ne pare? Cosa? Il fatto che ho parlato con il mio capo per avere più turni Ma ha detto di dover dare la priorità alle donne più giovani Che maleducato Diamine Non c'era bisogno di dirmelo in faccia L'età non c'entra niente con le pulizie Poi non sei così vecchia E per la mia età sono ancora uno schianto Se devo essere sincera Le ragazze del mio quartiere dicono sempre che sono carina E la ragazzina della porta accanto mi chiede sempre di legarle i capelli Grazie a lei ora sono bravissima a fare i codini Sempre di me e io non faccio altro che star qui seduta a sfogarmi Che diavolo sto dicendo? Sei un mio studente La doppia vita da insegnante non ho finito di leggere E' davvero spossante Forse ha abbassato la guardia perché conosce entrambi i lati di me stessa Più vengo qui più mi sento di potermi rilassare Da maid dovrei aiutare il mio padrone a rilassarsi Ma in realtà sono io quella che viene aiutata E che ci vuoi fare? Scusa sono una pessima maid No non è vero dai Sento la gentilezza di Kawakami Grazie sore Cosa mi dai oggi? Niente In rango 4 Perfetto Devo confessarti una cosa Ho mentito sul motivo per cui ho bisogno di soldi Non ho una sorella malata Anche la storia delle spese e degli extra era una bugia E perché mi hai mentito? Se non inventassi queste storie nessuno mi chiamerebbe Vedi ora capisci vero? Lasciarsi coinvolgere da una persona orribile come me Non porta nulla di buono Hai imparato una lezione importante Mettiamo fine a tutto questo Oh no Grazie per aver usufruito dei nostri servizi Fa un po' male sentirselo dire queste cose In tv in tv in tv in televisione ieri Parli di quel talk show? Una roba terribile Come si fa a pensare che ci siano degli esseri sovranaturali che rubano i cuori alle persone? Quel ragazzino è un bugiardo È impossibile che esistano questi ladri fantasma Purtroppo i miei figli pensano che sia tutto vero E la cosa peggiore è che adorano quel detective I bambini sono troppo influenzabili per vedere cose del genere alla tv Spegnete la tv allora se sono influenzabili i vostri bimbi Pare che la gente ancora non crederà nella nostra esistenza Eh vabbè sai che novità Parararara Ancora non ci credo Ieri siamo apparsi in tv Con Akechi-kun Un sogno diventato realtà Incredibile che uno studente possa lavorare come investigatore È come il principe detective È intelligente e anche bello È quasi troppo perfetto Eravamo in prima fila Praticamente sporgendomi potevo toccare Akechi-kun Che emozione Io intanto ho il numero stronze Quello uniforme gli stava benissimo E non sembrava affatto snob È come sa parlare bene in pubblico Ho saputo che dopo essere rimasto orfano e cresciuto in povertà Ciò lo rende ancora più affascinante Vuole catturare i ladri fantasma per definire le superiori Per lui non è affatto un gioco Io ho saputo che suo padre è a capo di una grande conglomerato finanziaria Sai che ti dico? Mi piace che detesti i media Mi fa pensare che non lo faccio per la notorietà Pare sia così bravo da essersi fatto dei nemici nella polizia E pare che l'intervista di ieri sia stata talmente apprezzata Che le ritrasmetteranno anche stasera Oh, quindi riapparirò in tv Ciao mamma Amico, quel detective di ieri mi ha fatto proprio incazzare Noi saremmo una minaccia Vorrei vedere lui al posto nostro Se qualcuno aiutasse questa gente non ci sarebbe nemmeno bisogno dei ladri fantasma Aia Parli a voce troppo alta E chi se ne frega Tanto parlano tutti di questa roba Sarebbe ancora più sospetto se ci mettessimo a sussurrare Ehi, vuoi davvero continuare a strafogarti di tutta quella roba da sola? Dammene un po' Mi spiace, questo era l'ultimo Non è vero, li ho visti che ce n'erano Ragazzi, state prendendo troppo alla leggera Ora c'è di mezzo anche la polizia Sapete com'è Quindi, secondo te, è vero Anche se continueremo con questa storia Andrà tutto bene, vero? Non possiamo smettere di essere ladri fantasma Solo perché abbiamo paura della polizia Però, che mi dici di quel tizio misterioso del palazzo di Madarame? Non stiamo trascurando troppe cose Una Ma che diavolo? Sembra che voi tre vi state divertendo parecchio Sono un po' invidiosa Che fai? Ci spia ancora? Te l'abbiamo già detto Non sappiamo niente Perché siete convinti che io sia qui per interrogarvi? State nascondendo qualcosa? Sono sempre disposta a dare ascolto ai problemi dei miei compagni Sei così ansiosa di ottenere una lettera di raccomandazione? Che domande, figuriamoci Non faresti mai nulla di tutto questo, altrimenti Cosa vorresti insinuare? Sei la presidentessa del consiglio studentesco, giusto? Davvero non sapevi nulla di Kamoshida? Certo che no È sempre stato un ottimo insegnante Fino a quel giorno Ma tu la prendi sempre le difese degli insegnanti D'altronde è questo il tuo lavoro, giusto? Beh, vogliamo parlare di te Tu cosa hai fatto per la tua amica? Tu eri molto più in confidenza con lei E come l'hai aiutata? Non potevo aiutarla in nessun modo Da sola non avrei potuto fare nulla per lei Non c'è bisogno di gridare Se quei ladri fantasma stessero davvero aiutando la gente Beh, io farei il tifo per loro Di sicuro sono molto più affidabili di certe persone che conosco Cercate soltanto di non saltare le lezioni, ok? Oh Makoto Quanto sei caruccia Ricordi quando prima mi stavo chiedendo se fosse giusto continuare? Mi rimangio tutto Se mollassi proprio ora mi vergognerei di me stessa E vai! È il momento di trovare il nostro prossimo bersaglio Se solo potessi Che cosa? Che cosa potessi, eh? E oggi è sabato I commenti si avvicinano con un ritmo allarmante E i più in vista sembrano essere quelli negativi Ma pensa un po' Un gruppo criminale dalle finalità che è ignote Che agiscono a suo piacimento in nome della giustizia Oh Sarà per colpa di Akechi La tv ha un potere assurdo Può anche disapprovare le nostre azioni Ma essere funestati della sua influenza è un'altra cosa Proprio quando la gente stava cominciando a credere in noi Tutto quello che dobbiamo fare è colpire un altro pezzo grosso, no? Beh, hai qualche idea su chi potrebbe essere questo pezzo grosso? No, niente di niente Merda, che seccatura A proposito Cos'è quel bagaglio? Oh, ho deciso di lasciare il dormitorio della scuola Non sono a causa del sudiciume Ma anche per il rumore In un simile ambiente non può nascere l'arte E allora che farai? Non puoi mica tornare in quella catapecchia, no? Stavo pensando di alloggiare a casa di Takamaki-san Volevo dire a casa di Anne Ho persino preparato un regalo di ringraziamento Spero incontri il gusto dei tuoi genitori Cosa? Non se ne parla neanche Cosa? Impossibile Sei tu quello impossibile Ma ho speso tutti i miei soldi per questi deliziosi dolcetti giapponesi Non è questo il problema Sul serio, dove lo sistemiamo? Dormirà qui Beh, dato che Yusuke è un membro importante della nostra squadra Ci penserò io a dare una mano Vieni a stare da noi È un po' sporco Ma almeno avrai un posto dove dormire Da quando sei tu a decidere? Voi due vivete in una caffetteria, giusto? Me lo chiedevo da un po' Yongen non è così lontana, vero? No, affatto La caffetteria dista solo un minuto dalla stazione Che ne dite di andarci adesso? Potremmo festeggiare il risveglio del cuore di Madarame Oh, ottima idea Sarà anche un party di benvenuto per Yusuke Allora è deciso Mi dispiace di darti questo disturbo A ogni modo, preferisco dormire su un futon Pure esigente, eh? Ma forca Starà a te convincere il capo Ma stronzo Lo butta giù dalla borsa Oh, che buon profumo Questo posto sa proprio di vecchio Però, tutto sommato, non è così male La gente ama definire retro questo genere di cose Oh? E loro chi sono? Salve C'è anche una ragazza Phoenix, c'è stato di grande aiuto ultimamente Ma, immagino siete stati voi ad aiutare lui più che altro No, davvero È stato proprio bravo Oh Accomodatevi Questo giro lo offre la casa Tu, però, mi aiuti Va bene La mia voce se ne sta andando, piano piano Wow, è una delizia Già, il suo grado di acidità Ce l'ha una profondità inaspettata Oh, sì Ora ricordo Crede aver letto delle blanche in una rivista È stato molto tempo fa Davvero? Fammi assaggiare Esatto Blu che te È amarissimo Non capisco Perché farsi del male così? Nemmeno io bevevo il caffè da ragazzo Sono i tuoi amici, no? Perché non li porti a vedere la tua stanza? Non c'è motivo di restare qui Oh, sì Voglio vedere È solo una mansarda Cacchio Non riesco a togliermi dalla bocca quel sapore amaro Grazie mille per il caffè È in cima a quelle scale Oh, e grazie per la bibita Dunque, tu sei An An Takamaki An-chan Che bel nome Hai un fidanzato? No Ma hai avuto per giunta Ehi Vieni a vedere Questo posto è assurdo Vai pure Oh, ok Grazie per il caffè Hanno lasciato qui il gatto Aiuto Non mi abbandonate Che ragazza dolce Lo so, so giro Non me lo dire Che ne pensate di questa stanza? Io Non so da che parte cominciare A me sembra piuttosto comune Davvero? Visto? Non è pazzesco? È più pulita di quanto mi aspettassi Cosa? Beh, sedetevi pure dove volete Sul divano Sul muretto Siamo su tutti i notiziari Persino chi credeva in noi Si è lasciato influenzare Dai commenti di Che girano in televisione Tutta colpa di quella Che ci dimmerda Abbassa la voce È meglio che non ci senta nessuno Ma Chi è che ha messo la roba Sulla mia console? An Di questo passo Non faremo altro che spaventare le persone Piuttosto che incoraggiarle Dobbiamo trovare un modo Per far capire alla gente Che agiamo nel giusto È ora di pianificare La nostra prossima mossa Volete discuterne oggi Giusto? Esatto Prima dobbiamo trovare un candidato Sì ma non ci imbatteremo A caso in un bersaglio importante Voi non conoscete proprio nessuno Io no Nemmeno io Leader Qualche idea? Usiamo il sito di Mishima Ho già controllato Ma negli ultimi tempi Non c'è mai nulla di interessante lì E poi Da quelle parti Nessuno parla di obiettivi Veramente grossi Merda Se avanti così Non riusciremo mai A smentire a Kechi E la madonna Ma che Chiedo scusa È da ieri che non metto niente Sotto i denti E hai speso tutti i soldi Per quella scatola di dolcetti Amico Quanto avevi in tasca? In ogni caso Ci toccherà aspettare Fin quando non avremo trovato Un buon bersaglio Quindi Che dediti di quel party di benvenuto? Non vedi proprio l'ora eh? Che deve aver trovato una cosa Quello non è un fornello da campo Possiamo usarlo per fare Dell'hotpot Sembra fantastico Ho sentito dire Che mangiare hotpot In compagnia Avvicina le persone Tra loro Finca c'è della carne Per me va bene Chiedo soltanto Di chiudere il pasto Con del porridge Con tanto prezzemolo Ovviamente Allora che ne dici? Per me va bene Hotpot Con questo tempo Chiuderemo Chiuderemo Con degli udon Cosa? Cosa? Un corno? Ricorda che non hai un soldo Forza Andiamo a comprare gli ingredienti Mi servono delle noci Di gingion Della pasta di wonton E Alla spesa pensiamo noi Nel frattempo Potresti recuperare Una pentola Dal piano di sotto Più tardi Dividiamo le spese Vai Voi fate comprare Io a trovare la roba Pare che questa festicciola Sarà piuttosto animata Avanti Andiamo a prendere Quella pentola E prepariamo il fornello Ok A me parte La parte difficile